Sabato 7 dicembre la comunità religiosa di Ruvo di Puglia ha celebrato i 50 anni di sacerdozio di Don Vincenzo Pellegrini, parroco della chiesa del Santissimo Redentore. Insieme ai vescovi Cornacchia e Girasoli sono state ricordate pagine di una lunga storia di fede ed impegno al servizio della comunità ruvese. Intanto bisogna dire che i primi 12 anni di sacerdozio sono stati vissuti più che in questa parrocchia, come vicario parrocchiale, sono stati vissuti al santuario della Madonna delle Grazie e trovai un santuario cadente. Veramente con l'aiuto anche del vescovo del tempo, Monsignor Marina, che mi aiutò in parte, con risorse, il santuario risorse, con il restauro degli affreschi di un restauratore valighissimo, il professor Turchiano di Bitetto, molto molto bravo, restauro sia l'affresco della Madonna di Calentano che quello della Madonna delle Grazie e quindi poi c'è stato un rinnovamento, pitturazione della chiesa, rifacimento dei tetti che stavano clonando, acqua che scorreva in chiesa su quella piccola casa canonica. Fero in 12 anni bellissime che furono coronati poi, come si sa bene, dalla incoronazione della Madonna delle Grazie. Questa idea che avevo maturato da tempo fu accolta benissimo a tutti i devoti che venivano la mattina alle sei e mezza a fare i nuovi sabati alla Madonna e anche pomeriggio. Tutti questi oggetti di oro, poi dal vescovo Monsignor Marina, furono portati a Napoli dalla ditta Catello famosa che fece realizzare le corone alla Madonna e al bambino e fuori da un benedetto il 10 maggio del 72 dal Papa Paolo VI. Fu un momento veramente bello. Andammo a una piccola commissione di ruvesi e il 21 poi maggio successivo la Madonna fu incoronata con un rischio straordinario e commovente da parte di tutta la cittadinanza che si riversò al santuario. Quindi questi per i primi 12 anni, ma ero comunque viceparroco che ero viceparroco perché il parroco era anziano, si era fatto anziano e aveva bisogno di un po' di aiuto. Io poi ero cresciuto qui, quindi lui mi teneva come un figlio suo che volentieri ha dato una mano d'aiuto. Come sono passati questi anni? Sono passati certamente non per il mio merito ma secondo un progetto del Signore che nel 1971 sono stato nominato a Martina Franca assistente regionale della CR, dell'azione cattolica di ragazzi che nasceva in quegli anni, il 69 ricordo. Di lì poi ho incontrato molti, molti giovani, ragazzi, educatori di tutta la Puglia. Quindi con questi convegni regionali è stato un arricchimento straordinario. Il vescovo delegato dell'Aiccato e quindi dell'azione cattolica, il vescovo di Andrea Monsignor Lanave, mai dimenticato, è stato il mio maestro dal punto di vista pastorale. Sono stati 25 anni, mi ha chiamato a volere insieme all'azione cattolica regionale, a volere accompagnarlo come segreteria alla Commissione Presbiterale regionale. Che cosa è la Commissione Presbiterale regionale? Siamo una specie di sindacato dei preti e per cui tutti i problemi insistenziali, religiosi, di vita comunitaria, ecco venivano affrontati, sono stati affrontati. Di lì poi sono stato anche eletto membro della Commissione Presbiterale italiana, quindi ancora un dono ricevuto dall'alto, dal Signore, perché ho incontrato preti ancora più straordinari. Questa Commissione Presbiterale italiana, formata da rappresentanti di tutte le regioni di Puglia, sono venuti fuori di lì, insomma, vescovi, arcivescovi, cardinali pure, e quindi questi sacerdoti mi hanno arricchito, insomma, in un modo straordinario, soprattutto in ordine alla comunione presbiterale che, insomma, faccio segnare il passo in diocesi perché il prete di Puglia è per natura sua un po' egoista, che pensa a chiudersi in se stesso e eventualmente a realizzare personalmente in proprio qualche cosa, invece questi sacerdoti che io ho incontrati lì nella Commissione Presbiterale italiana soprattutto, ma in quella regionale, in quella regionale faceva parte Don Tonino Bello, io l'ho incontrato come membro della Commissione Presbiterale perché fu sintomatico un biglietto di augurio che mi scrisse di risposta agli auguri che io ho mandato quando ho fatto vescovo di Morfetta, Terlizio e Giovinazzo, in quel mese che poi fu nominato vescovo di Luvo il 30 settembre del 1983, del 1982, e lui mi scrisse, insomma, che aveva bisogno di tanto tanto aiuto spirituale, di preghiera per collaborare insieme, non capivo questo collaborare insieme perché lui mi hanno fatto vescovo di Morfetta, Terlizio e Giovinazzo, non di Ruvo, di Ruvo fu fatto, lui forse già lo sapeva e non lo poteva manifestare finché non fosse giunta la data del 30 settembre quando fu poi pubblicata la sua nomina. E quindi in questa Commissione, anche lo stesso Don Mimmo Cornaccia, l'attuale vescovo, conosciuto da tanti anni, nell'Istituto Pastorale, ci conoscevamo da 40 anni, e di tutti questi, diciamo, veramente ringrazio il Signore che mi hanno accompagnato ed è stata l'una e l'altra cosa, sia la parrocchia che il Don Tonino dopo cinque mesi mi ha affidato perché ci conoscevamo, conoscevamo, quindi sapeva bene come, ecco, lui quasi quasi volle in quella maniera, facendo mi parlo, vuole quasi quasi disobbligarsi per questa nostra antica amicizia e arricchente, vicendevolmente arricchente sia lui nei miei confronti, sia io umilmente nei suoi confronti per questo scambio di esperienze. Poi dopo mi sono immerso insieme fino al 2003, sono stato nella Commissione Presbiterale Italiana, quindi questo sindacato, diciamo, ad alto livello nazionale e poi dopo mi sono, certamente contemporaneamente, comunque ho basato anche la parrocchia, a portare innanzi la parrocchia con tutte le attività che ci sono state, con congressi eucaristici addirittura abbiamo osato, anche osato, un sinodo parrocchiale che è stato il primo sinodo, era un'esperienza che si andava facendo in Italia, soprattutto nelle diocesi del nord si andava, ma anche e soprattutto in Svizzera e in Austria si erano fatti dei consinodi parrocchiali, cioè delle riunioni straordinarie di tutta la comunità parrocchiale per approfondire i problemi, vedere quali erano le necessità impellenti cui bisognava mirare ed è stata veramente un'esperienza bella. 94-95, 1994-1995. Contemporaneamente poi si fuori tante realizzazioni, gruppi famiglia, caritas parrocchiali, il vescovo Don Tonino mi ha anche poi affidato il volontariato vincenziano, questo dal punto di vista spirituale, organizzativo, però si è badato poi anche alla chiesa perché proprio nel 1995 è stato realizzato questo magnifico mosaico che voi vedete qui, dalla ditta Collidani, Mosaic Arts di Milano, è stata una cosa veramente bella, è stato un fatto providenziale perché è venuta una signora che poteva fare questa donazione, ha fatto questa donazione che c'è stato un costo di 250 milioni all'epoca e poi è stato completato. Tutto qui, poi c'è stata la celebrazione del mio 25esimo di parrocato che ha messo un po' tutti insieme le risorse parrocchiali, tutte le associazioni, frattanto mi era stata affidata anche la confraternita di San Rocco da Don Tonino 25 anni fa e quindi poi man mano insomma si sono fatte tante realizzazioni. Diciamo che siamo passati nella ordinarietà ma si fa per dire nella ordinarietà perché in parrocchia se si vuole fare qualcosa bisogna muoversi, darsi da fare. Devo dire che ho trovato una collaborazione veramente straordinaria di amici del Consiglio Pastorale che mi hanno aiutato nei vari settori perché da solo il parroco non può fare niente, come il vescovo non può fare niente da solo se non ci sta il presbiterio, se non ci sono i presbiteri e così anche il parroco non può fare niente e realizzare molto molto poco se non ci sono i laici. Frattanto siamo arrivati ai 50 anni e facevo questa riflessione che quando ho fatto 25 anni di sacerdotio non arrivavano mai questi 25 anni ma dai 25 ai 50 io non me ne sono accorto, non me ne sono accorto perché sono passati così velocemente, sono passati e frattanto purtroppo qualche persona cara si è lasciati, certamente i miei genitori, 82, il 93 mia madre, il 93 Don Tonino e poi subito dopo tanti vescovi che ho conosciuto e insomma con i quali ho collaborato, ho collaborato l'arcivescovo di Trani, il vescovo di Andre, Monsignor Lanave, ho detto che per 25 anni è stato mio veramente padre e maestro di pastorale parrocchiale di Ocesana, insomma amabilissimo e mi ha proprio istruito, una volta durante la mia segreteria regionale della commissione presbiterale e insomma avevo dimenticato una cosettina un po' importante, lui mi ha ripreso, mi ha ripreso perché ci teneva che imparassi le cose veramente come andavano fatte e mi disse Don Vincenzo ricordati che la segreteria è la presidenza che pensa Sì sì sì, quindi ho veramente tanto imparato e tanto gli sono grato, prego anche per lui ma anche per il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, Monsignor Marina nel 1969, 50 anni fa, ecco certamente credo che loro di lì godano e lodano il Signore come io prego per loro e per tutta quanta la comunità.